Ciao a tutti, sono Sofia. Vengo da un piccolo centro rurale della Cina che si chiama Xin Yi. Essere nata in una zona rurale è molto importante per me perché il mio rapporto con la natura ha una forte influenza nelle mie creazioni. Ho iniziato a studiare la moda. Dopo un anno sono venuta in Italia, ho seguito il corso di disegno professionale all'Accademia del Lusso, dopodiché ho studiato modellistica professionale all'Accademia Moda Magliani. Ho avuto il vento che mi ha permesso di continuare a studiare sempre presso l'Accademia Magliani. Nel frattempo ho seguito anche lezioni privati di cuscire sartoria ad moda. Durante gli studi ho sempre cercato di non trascurare la parte pratica. Ho partecipato a sei sfilate. Grazie all'Accademia del Lusso ho fatto una sfilata personale a Shanghai. Un'altra esperienza per me molto importante è stata essere la stilista per l'invento Tutte le Forme di Made in Italy che si è tenuta a Milano nel 2016. Ho creato il mio marchio Lei Lantieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.